Due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, ma uno dei due è barbuzziente, no? E questo aveva il vizio che quando questo si impuntava gli finiva le frasi, gli anticipava le parole, no? Allora gli fa, dice come stai? E come me ne so? Adesso so bene, c'ho avuto un problema, c'ho avuto l'ulcera. Sì, sì, ma adesso so guarito. Dice per adesso che mi dici? Tutto a posto, sempre lì abiti. No, no, ho cambiato casa, sono andato a abitare vicino da mio figlio, tuo figlio. Eh sì, mi sono cambiato pure la macchina, mi sono fatto la stessa a Serbia. Dice sì, la Serbia. E poi mi sono separato da mia moglie, ha fatto bene. Io te lo volevo dire, ma quello è il mignotone. Calcola che ci siamo stati tutti a letto con lei. E lui, da mio socio in affari. E lui, da mio socio in affari.